Ciao a tutti, sono qui con il settimo mini album dei Nuist, questa è la versione 2 Non so se si reccono Aspettate che tolgo le foto, carte e le varie cose Posso averle tolte tutte spero, ok Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Adesso vi faccio vedere il resto Ok abbiamo E poi abbiamo Alla prossima Oh miyuk Oh che bella Ok ho trovato miyuk Aspettate che rimetto l'album E poi le foto, carte Allora la prima E l'ultima E l'ultima Alla prossima